Il ritardo nel via libera alla differenziata col sistema del porta a porta ha escluso giocoforza il comune di Sciacca dai fondi distribuiti dalla regione ai comuni che nel 2017 hanno raggiunto percentuali significative. La pioggia di contributi da Sambuca a Ribera apre prospettive piuttosto importanti soprattutto se si pensa che per esempio l'amministrazione Crispina guidata da Carmelo Pace ha già fatto sapere che utilizzerà i 326 mila euro assegnati per il proprio 65% di differenziata per abbassare il costo della Tari. Solo il prossimo anno anche Sciacca forte del 75% già raggiunto in pochi mesi da quando è entrato in vigore il nuovo servizio potrà ricevere il contributo in questione che potrebbe anche essere particolarmente rilevante sul piano della quantificazione e anche nell'ottica della possibilità di contribuire ad abbassare la quota di tassa. Una questione questa particolarmente significativa dalle nostre parti dove a fronte di un fabbisogno di circa 4 milioni e mezzo di euro utili a sostenere il piano aro il comune dei Sciacca ne incamera appena poco più della metà. Il 45% della platea dei contribuenti infatti non paga la tassa sui rifiuti e la discutibilissima norma che prevede che gli aumenti si possano spalmare su coloro che pagano peggiora una condizione di insoddisfazione inevitabile tra i cittadini. Aspetto sul quale l'amministrazione conta di rivolgersi ad una ditta specializzata negli accertamenti e nel recupero delle tasse non pagate. Ma è un argomento quello dei contributi ai comuni virtuosi nella differenziata che stamattina è al centro della prima polemica politica del 2019 a lanciarla l'opposizione di centrodestra la quale nel rivolgere complimenti a tutti quei comuni beneficiari dei fondi fa notare che Sciacca è stata esclusa perché il piano aro è stato attivato soltanto nel maggio del 2018 dopo una lunga battaglia che si legge nel documento l'ex amministrazione di Paola dovette fronteggiare con la loro opposizione oggi maggioranza. L'attacco al centro-sinistra da parte dei consiglieri, parafrasando le recenti dichiarazioni di Francesca Valenti, è che probabilmente da opposizione non era serio e responsabile. Un atteggiamento che, e l'accusa, ha fatto attendere mesi e mesi prima di dare il via ad un importante servizio che, sebbene abbia ancora bisogno di alcune messe a punto, è partito con ottimi risultati, quegli stessi ottimi risultati che oggi inducono addirittura il sindaco Francesca Valenti ad esaltare il piano aro quando ci sono importanti traguardi. A criticarlo ogni qual volta c'è un disservizio. Centrodestra che parla di lentezza dell'amministrazione Valenti nel dare il via al piano aro, generando dunque migliaia di euro di danno alla città e di riflesso ai nostri concittadini contribuenti. Opposizione che dunque accusa l'amministrazione Valenti di essere stata poco lungimirante, avendo preferito dare priorità alle vendette politiche piuttosto che al bene della città. Consiglieri comunali che si autodefiniscono detrattori, riprendendo un termine usato da Francesca Valenti, e che annunciano che da oggi faranno chiarezza su molte vicende che accadono all'interno del Palazzo Municipale. Il 2019, osservano, ci vedrà ancora di più in prima linea per smascherare, se ancora ce ne fosse bisogno, quella che viene definita totale incapacità amministrativa della sindacatura di Francesca Valenti, sindaco più sconosciuto nella storia delle sindacature cittadine.